Carissimi e carissime, ritorno all'appuntamento con In Dialogo con l'Europa, 5 minuti nei quali approfondire insieme alcuni temi che riguardano il mio lavoro al Parlamento europeo. Giovedì il 23 giugno i cittadini inglesi saranno chiamati a decidere con un voto se uscire o rimanere nell'Unione europea. Un referendum che comunque vada rimarrà nella storia. Per la prima volta dopo la Seconda Guerra Mondiale il processo di costruzione dell'Unione europea viene messo in discussione ufficialmente. Un Paese membro, uno dei 28 Paesi membri, potrebbe decidere di tornare indietro, aprendo un processo di abbandono complicato che durerebbe fra l'altro non meno di sette anni, creando instabilità politica e finanziaria. Tutti noi naturalmente speriamo che gli inglesi scelgano di rimanere all'interno dell'Unione. Il Regno Unito è parte integrante del processo di Unione europea. Il referendum inglese potrebbe inoltre innescare una pericolosa catena di emulazione e i partiti e i movimenti anti-europeisti acquisterebbero sicuramente più forza. E in un mondo globalizzato pensare ad un'Europa divisa è oltre che insensato anacronistico. I 28 Stati europei, tutti insieme oggi, rappresentano solo il 7% della popolazione mondiale. Abbiamo un'età media di 45 anni. Se pensiamo agli africani sono il doppio di noi e hanno un'età media di 25 anni. Lo scorso anno in Europa, e non è una battuta, è un dato economico e commerciale, si sono venduti più pannoloni di pannolini. Non possiamo pensare di competere ed essere protagonisti nel mondo se siamo divisi. Il processo di costruzione dell'Europa ci trova oggi a metà del guado. È come se attraversassimo un fiume e l'acqua cresce. I problemi attorno a noi aumentano. Penso al tema della sicurezza, l'insicurezza legata al terrorismo, l'immigrazione, i cambiamenti climatici che possiamo toccare con mano anche nei nostri territori. La crisi economica e finanziaria, il tema della disoccupazione giovanile che sta mettendo a dura prova la nostra Unione. C'è bisogno di più Europa, non di meno Europa, per affrontare questi problemi globali. Ci vogliono soluzioni globali. Quindi a chi ci dice torniamo alla riva di partenza, torniamo indietro, io dico che bisogna invece nuotare più forte, più velocemente per passare dall'altra riva, per costruire un'Europa più integrata dal punto di vista economico, sociale e politico. Per rimanere in contatto e confrontarci su questi temi decisivi per il nostro futuro, ho deciso di potenziare il mio sito internet su www.damianosoffoli.com. Trovate con una nuova veste grafica, nuovi contenuti, una sezione dedicata agli appuntamenti sul territorio, aggiornata, una rubrica dal titolo La politica dalle scarpe bucate, alcune mie riflessioni sulle ragioni e l'importanza dell'impegno politico, di un cammino insieme che unisce la vita concreta delle persone, i nostri territori con l'istituzione europea. Vi invito quindi a visitare il sito dove trovate anche una sezione dedicata ai finanziamenti europei, aggiornata con i bandi aperti e le date per presentare le domande, sia per i privati che per gli enti locali. A questo proposito, sempre sul sito trovate scaricabile in maniera gratuita la seconda guida ai fondi europei che ho realizzato, dopo quella pensata in maniera precisa per le piccole e medie imprese, una nuova guida sulle opportunità di finanziamento ai comuni, alle unioni di comuni, alle province e città metropolitana. In questa guida vi spiego in modo chiaro, sintetico e comprensibile come gli enti pubblici possono partecipare ai bandi europei ed ottenere finanziamenti. Un caro saluto al prossimo appuntamento.